Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione della TG10, prima parte del nostro telegiornale che dedichiamo all'avvertenza Eni, quattordicesimo giorno di mobilitazione da parte dei lavoratori dell'indotto e del diretto della raffineria a seguito del mancato rispetto del protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014. Da questa mattina presidio lungo la strada statale 115 in Contrada Burgio, ne pressi del Bivio per la 626 Gela Caltanissetta. Vediamo. Quattordicesimo giorno di mobilitazione da parte dei lavoratori dell'indotto e del diretto della raffineria Eni di Gela a seguito del mancato rispetto del protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014 che prevede l'avvio del processo di riconversione per la produzione di biocarburanti, degli eventi di bonifica delle aree dismesse e la creazione di nuovi posti di lavoro per il personale dell'indotto fermo da tre anni. Da questa mattina presidio lungo la strada statale 115 in Contrada Burgio, ne pressi del Bivio per la 626 Gela Caltanissetta. Lunghe colonne di mezzi si sono formate in entrambe le direzioni di marcia. La zona è presidiata da polizia e carabinieri. Stiamo continuando affinché cerchiamo di avere sempre risposte per quanto riguarda il rispetto del protocollo, ma più che altro per fare un recupero di queste ritarde che ci sono. Quindi chiediamo alle istituzioni, anche al Leni, di cercare di recuperare questi ritardi affinché togliamo anche le persone di mezzo alla strada. Non molliamo, siamo forti e tenaci noi con l'indotto, quindi ci siamo uniti oggi all'indotto appunto per questa protesta, per alzare il tono di voce, per farci sentire da chi di dovere e darci finalmente risposte concrete. Noi abbiamo bisogno di questo per noi stessi, per la nostra città, per il nostro territorio. Questa è l'avvertenza Gela. In questa avvertenza non ci può essere né diretto né indotto. Questa è l'avvertenza del territorio. Questa avvertenza la si può risolvere solo ed esclusivamente con l'attuazione del protocollo del 6 novembre, il che porterebbe alla realizzazione dell'agri-refanere e a tutti quei progetti inerenti all'upstream. E potrebbe finalmente riportare al lavoro centinaia di lavoratori, restituendo la dignità del padre e di famiglia. Perché quello che ne risente è il territorio di Gela. Perché vediamo che l'economia gelese ormai è a stracollo. Intanto ieri il Vescovo di Piazza Berdina, Monsignore Rosario Gisana, ha incontrato i lavoratori dei blocchi di Ponte Olivo sulla Gela Catania, vicino alla sede direzionale di Enimed, portando una parola di conforto dopo 13 giorni di lotta per la ripresa produttiva della raffineria e per il lavoro. Vi assicuro, ha detto Gisana, che nelle quattro volte che ho incontrato Papa Francesco, io ho sempre parlato dei problemi dei lavoratori di Gela, che non sono di oggi, ma che si trascinano da tempo e tutte le volte mi ha detto di stare vicino a voi. Il fatto di essere qui nasce da una mia sensibilità personale, ma soprattutto sul mandato del Papa. Poi Monsignor Gisana si è schierato apertamente con le maestranze e con i sindacati, esortandoli a resistere e dicendosi pronto a stare in trincea con loro. I rappresentanti sindacali confermano che siamo stati abbandonati dallo Stato. Sentiamo. I presidi continuano. Questa mattina un altro è stato istituito sulla Gela Catania di Setta. È chiaro che voi volete immediate risposte da parte del Governo regionale, da parte del Governo nazionale, perché è un'avvertenza che riguarda tutta la città. Sicuramente noi stiamo continuando. Chiediamo pure che le date che ci hanno dato, se c'è la possibilità anche di anticiparle, perché è importante che le risposte arrivano subito. Siamo in ritardo su quelle che sono le autorizzazioni. Il Governo, gli impegni, sia regionali che il Governo nazionale, deve intervenire subito. L'avvertenza di Gela su quello che è stato affermato il protocollo del 6 novembre è una cosa chiara a tutti. L'abbiamo firmato, sottoscritto da tutti, perché c'erano le esplorazioni da fare, le piattaforme che devono realizzare, l'agri-refanire che doveva essere fatta. E questi sono gli argomenti che noi vogliamo trattare subito, affinché si possa dare tranquillità, consolidare tranquillità ai lavoratori del diretto e dell'indotto. Perché questi ragazzi che non stanno lavorando dell'indotto e perché con litere autorizzativi che stanno tardando e tutta la macchinazione di quelli che sono litere autorizzativi, laddove si possono fare e si possono avere, oggi ci ritroviamo a essere uniti assieme ai colleghi dell'indotto e si continuerà fin quando non abbiamo delle risposte o delle date che ci convincono che si possa realizzare questo progetto. Sono dei presidi perché vogliamo dare un segnale al Governo regionale, al Governo nazionale, affinché intervenga in Dembiceleri e possa a questo territorio avere un respiro occupazionale. È una vergogna da parte dello Stato abbandonare questi lavoratori senza degli strumenti e senza dare una prospettiva a un progetto che doveva far rinascere quella che era la città di Gela attraverso una riconversione e invece tutti quanti, sotto l'occhio di tutti, che questa operazione non sta avvenendo. Questo significa che c'è una totale assenza dello Stato, che si innescano immediatamente tutte quelle che sono le operazioni di incontri perché questo Stato di cose rischia di degenerare. Sit-in di protesta dei lavoratori dell'indotto anche in piazza Municipio, vediamo. Sit-in di protesta di un nutrito gruppo di operai dell'indotto con striscioni e bandiere dei sindacati confederali CGL e Cisle Will in piazza Municipio a Gela, no agli ammortizzatori sociali per tre mesi, così come definito, giorni addietro al Ministero del Lavoro. Chiediamo certezze, non vogliamo, e le mosine hanno riferito gli operai. Non vogliamo noi assistenzialismo. Tutto quello che si è discusso a Roma, noi non siamo soddisfatti per questo. Ed ecco che ci siamo spostati perché c'era la necessità. vogliamo dare manforte affinché tutto venga completato e adempiuto per quelle promesse che sono state fatte dai tavoli di Roma. Vogliamo essere presenti, insomma. Dunque no agli ammortizzatori sociali. No agli ammortizzatori sociali, noi vogliamo il lavoro. È stato ribadito tantissime volte, noi siamo esperienti con gli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali non durano per sempre e non soddisfano nemmeno i bisogni che ci sono nelle famiglie. Perché, ripeto, ho detto tante volte, c'è chi ha un mutuo, c'è chi non riesce a pagare la luce, c'è chi non riesce a pagare l'acqua, c'è chi ha una famiglia numerosa. Qui siamo famiglie a monoreddito la maggior parte di noi e non riusciamo a sbarcare il lunario. Ci sentiamo abbandonati dalla politica, soprattutto dalla politica regionale e dal governo centrale, che tanto hanno promesso ma nulla hanno fatto ad oggi. Ma cosa potrebbe fare il Comune di Gela per venirvi incontro? Io credo che il Comune di Gela si stia adoperando per venirci incontro, però abbiamo una politica regionale assente, il nostro Presidente della Regione assente completamente. Per non dire il signor Renzi, che proprio ci ha abbandonati, che è venuto a Gela a farsi i selfie, però è servito solo a quello. La situazione sta diventando un po' critica, nel senso che più si continua a fare sciopero, più le famiglie si esasperano. Facendo sciopero non si percepisce neanche più lo stipendio, quindi qui è la politica che deve intervenire subito. Tre auto in fiamme nella notte a Gela, teatro dell'azione delinquenziale e via Malfi nel quartiere Giardinelli. I gnoti malviventi intorno alle tre hanno preso di mira una Volkswagen Golf di proprietà di un uomo di 45 anni ed una Smart Fortu di un 59enne. Il fuoco si è propagato anche ad una Fiat Panda, indagano i carabinieri. Ancora cronaca, unisce mese di 23 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di Francesco Infuso. I poliziotti durante una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto all'interno di una cavità ricavata da una pila di piastrelle posizionate sul terrazzo dell'abitazione una busta in plastica con all'interno 5 involucri di carta stagnola contenenti marihuana essiccata del peso complessivo di 50 grammi. All'interno della stessa busta di plastica è stato trovato un bilancino di precisione indispensabile per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. Infuso è stato ristretto ai domiciliari. Protestano i lavoratori che si occupano del servizio trasporto dei disabili. Indice accusatorio puntato all'indirizzo dell'amministrazione comunale. Sentiamo. Noi protestiamo dal 10 agosto del 2015, questo è il settimo mese. Fra due mesi partoriamo un'altra boccata amara perché ci giungono notizie molto strane nel senso che sono partiti oggi voucher, non so se è vero o non è vero, non so. Gli utenti sono pochi e sono disorientati, ma la cosa principale è che l'assessore che cambia le carte ogni tre secondi perché lei dice una cosa e poi ne fa un'altra. Mi spiego. In tre mesi questa amministrazione ci ha preso in giro tre assessori, tre versioni, tre discussioni. Voi siete ex cogetra, non vi tocca nessuno da questa parte, l'altra. Tutte chiacchiere. Noi siamo stanchi e non ci danno nessun tipo di riferimento, non ci dicono niente. La parte è pronto, mettiamo questo, togliamo quello, mettiamo questo. Noi siamo stufi. Ci dicono quello che dobbiamo fare e noi ne trarremo le conseguenze. Siamo dal 10 agosto che siamo fermi. Siamo in attesa dell'approvazione del bilancio e di ciò che vogliono fare di noi. E voi chiederete un incontro all'amministrazione comunale? Sì, lo chiederemo sia col sindaco, sia col prefetto e sia col presidente della regione. Spero che il consiglio comunale si renda conto che noi vogliamo soltanto lavorare. Non chiediamo niente. Il nostro diritto e la nostra dignità è un bussidupare per i nostri figli. E ci dino delle risposte concrete. Non ci prendono in giro, che è da parecchio tempo che ci prendono in giro. Donazione di organi, atto d'amore, fatto culturale. Il titolo del convegno che si terrà nell'auditorio modelliceo classico Eschilo di Gela oggi alle 16, organizzato dal reparto di rianimazione dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Previsti gli interventi del dirigente scolastico Gioacchino Pellitteri, di Lucio Antona, di Salvatore Benfante Picogna dell'Associazione Maestri Cattolici Italiani e di Giacomo Giurato, neoreferente interprovinciale di Aido, l'associazione italiana donatori di organi e tessuti. Hanno assicurato la loro presenza anche Luciano Fiorella, direttore sanitario dell'ospedale gelese, il direttore dell'ASP2 di Caltanissetta, Carmelo Iacono e il sindaco Domenico Messinese. Prevista anche la presenza di Reginald Green, il papà del piccolo Nicolas, 7 anni, vittima nel 1994 di un assassino sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, mentre era diretto in Sicilia con i genitori. Gli organi di Nicolas oggi vivono in 7 persone. Controlli e sanzioni erogate dalle guardie zoofile di San Cataldo intervenute a Gela per varie segnalazioni di cittadini su presunti casi di maltrattamento e per controllare la presenza di microchip sui cani presenti nelle vie cittadine al seguito dei proprietari. Presto a Gela un corso per la formazione di guardie zoofile organizzato dalla Lida Gela. Il corpo potrà operare in appoggio alle forze dell'ordine con un'apposita convenzione da stipulare con il comune. La guardia zoofile è nominata dalla prefettura di appartenenze ed è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale. Saranno diversi i settori dedicati. Per informazioni rivolgersi al gruppo Lida Gela o tramite email lidagela-libero.it o sulla pagina lidagela-onlus. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con 10 domande 10. Ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà il giornalista Annello Lombardo. Le repliche sono previste alla mezzanotte domenica prossima alle 18. Ci fermiamo, c'è la pubblicità a tra poco. Restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Sono aperte le iscrizioni all'istituto tecnico Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio Di Bartolo, settore economico e alberghiero. Per informazioni bisognerà rivolgersi direttamente al personale della segreteria in via Ettore Romagnoli dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 18. Open day all'istituto tecnico industriale Morselli con una proposta formativa davvero variegata. Oggi date il benvenuto a tutti i vostri nuovi potenziali iscritti. Siamo convinti di poter offrire delle opportunità per l'immissione immediata nel mondo del lavoro perché come certamente lei sa bene il 44% degli studenti che escono da un istituto tecnico ben preparati trovano lavoro entro i sei mesi successivi. E questo noi ne abbiamo riscontro concreto con i ragazzi che sono usciti l'anno scorso. Noi abbiamo una buona percentuale di studenti che già hanno trovato lavoro nel nord Italia anche perché abbiamo una forma di collaborazione con diverse imprese del Veneto, dell'Emilia Romagna che ogni anno ci chiedono i nominativi degli studenti che sono usciti con i voti migliori. Quindi penso che sia una bellissima carta d'identità quella dell'ITIS di Gela. Preside, questo è il suo esordio in questo istituto. Con quale spirito intraprende questa nuova avventura e se vorrà valorizzare così come prescritto dalla buona scuola di Renzi appunto come accennava prima all'alternanza scuola lavoro? Io mi sono innamorata subito di questa scuola. Io vengo dalla scuola primaria quindi questo mondo per me era un mondo nuovo. Però ripeto ho trovato persone appassionate, persone entusiaste del proprio lavoro che subito mi hanno coinvolto. Tutto il personale è estremamente propositivo e io sono una persona molto curiosa, mi piace mettermi in gioco. Quindi fin dalla prima settimana che sono arrivata ci siamo adoperati per preparare un progetto per l'alternanza scuola lavoro per le classi quarta e quinta e abbiamo già avuto un finanziamento. Quindi partiremo già con il mese di marzo anche perché già sul territorio la scuola aveva dei legami con diverse imprese che sono molto disponibili ad accogliere i nostri studenti e quindi già per il quarto e il quinto anno siamo già in partenza. Per il terzo anno stiamo acquistando dei software per l'impresa simulata in maniera tale che poi l'anno prossimo i ragazzi sono già preparati allo svolgimento di questa attività. Sarà celebrata domani alle 18.30 in Chiesa Madre a Gela la messa in onore della beata Maria Cristina di Savoia. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Maria Cristina di Savoia preseduta da Flora Montana. Avranno inizio mercoledì 3 febbraio nella Chiesa di Sant'Agostino a Gela e i 7 mercoledì di San Giuseppe verranno celebrate due messe. Una la mattina alle 9 preceduta da preghiere e canti in onore del Santo Patriarca e un'altra la sera alle 18. Giovedì 4 febbraio invece sempre nella Chiesa di Sant'Agostino cominceranno i 15 giovedì di Santa Rita. Anche in questa occasione saranno celebrate due sante messe alle 9 e alle 18. Il 22 maggio giorno della festa dedicata alla Santa di Cascia presiderà una solenne messe in piazza Sant'Agostino il vescovo Monsignor Rosario Gisana con la benedizione delle rose. Adesso ci occupiamo del bilancio del primo corso di formazione teatrale per attori che si svolge al Teatro Eschilo di Gela. Vediamo. Bilancio del primo corso di formazione teatrale per attori che si svolge all'Eschilo di Gela. L'iniziativa porta la firma della scuola di formazione teatrale Prosa. Sono 16 i partecipanti, docente ad eccezione e l'attore Tuccio Musumeci. Per il giovane il teatro può rappresentare un'attività lavorativa un giorno o deve rimanere soltanto un hobby, una passione? Ma secondo me oggi con la crisi che c'è è meglio la passione. Oggi inserirsi un ragazzo o a raccomandazioni politiche e va a infilarsi... Io li nomino, ma c'è Ugo Pagliai che si vergogna a nominare queste fiction. Una volta si chiamavano sceneggiati dove c'erano i grandi attori. Oggi non gli interessa più niente. Fanno queste fiction ma non si capisce niente di quello che dicono. Sono attori che uno poi non si sa chi sono, che non hanno una tecnica, non hanno un tipo di recitazione, sono tutti calanti. Io tante volte ne vedo, con mio figlio mi diverto perché non si capisce una parola di quello che dicono. Al regista non gliene frega niente perché deve presentare il prodotto alla televisione. Perciò non si ragiona più. Io mi ricordo quando facevo Sette Voce a Milano, che era il programma del sabato sera che lo presentava Pippo Baudo, ma c'era un rigore dei funzionari. Oggi invece proprio alla televisione di Stato di San Marino mi sono trovato bene perché fa dei programmi veramente intelligenti. Qua oggi le televisioni bisogna anche specialmente quelle emittenti private, debbono dare una svolta. Debbono dare una svolta anche per avere la pubblicità perché si vive di questo, della pubblicità, ma debbono dare una svolta perché gli spettacoli oggi di varietà lo fanno i politici. Ai nostri microfoni Franco Longo, direttore del Teatro Eschilo. Siamo contenti che non sono soltanto attori o aspiranti attori gelesi, ma anche da Licata, da Niscemi, da altre parti della Sicilia. Abbiamo avuto anche richieste da Noto, da Siracusa, però ci siamo limitati ai 16 di quest'anno. Provo a cercare di fare un bel lavoro, certosino, con tutti, con grande attenzione. C'è l'interesse proprio da parte di chi partecipa? C'è molto interesse, c'è molto interesse. Diciamo che è duplice. Da una parte ci sono i giovani che vorrebbero fare l'attore, l'attrice, teatrale o cinematografica o altri lavori nel mondo dello spettacolo. I grandi no, i grandi magari lo fanno per hobby, per il teatro amatoriale, perché già si occupano di altro, fanno altro nella vita. E adesso c'è lo sport, parliamo di calcio. Turno amaro per Gela e Macchitella Gela, mentre a sorridere nell'ultima domenica di gennaio è stato solo l'atletico Gela. Con questo bilancio si è chiuso così il primo mese dell'anno solare per le tre squadre di calcio gelesi. Solo uno striminzito pareggio contro una delle squadre più modeste del girone A di eccellenza per il Gela, che rimane appena una settimana in testa alla classifica. In casa di un Camarat, che obiettivamente si è confermato ben poca cosa, la squadra di Mr. Bruculeri sciorina una prestazione mediocre e da dimenticare al più presto. Finisce per 1-1 ed è una mezza sconfitta o forse qualcosa di più. La San Cataldese infatti torna solitaria in vetta dopo aver battuto in casa l'atletico Campofranco, mentre anche il Dattilo Noir raggiunge al secondo posto il Gela. In promozione crolla sotto i colpi della capolista Nissa, il Macchitella Gela sconfitto per 3-0 a Caltanissetta, mentre l'atletico Gela vince a tempo scaduto contro l'ostico New Team Ragusa. Al Vincenzo Presti decide una rete del sempre decisivo Davide Ascia. Giallorossi di Mr. Peppe Misiti sempre al terzo posto in piena zona play-off. Siamo all'informazione cinematografica, è 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella Gela, appuntamento alle ore 21. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione, a tutti voi un buon inizio settimana, arrivederci. Grazie per la visione!